Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio, Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per traffico tra Calenzane e Vive 1 Variante in direzione di Bologna. Sullo stesso tratto, in carreggiata opposta, rallentamenti per un veicolo in avaria. Ci spostiamo in Fipili, dove troviamo rallentamenti per lavori, verso Firenze, tra Empoli Est e Ginestra, in carreggiata opposta tra La Strassigna e Montelupo. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Prima di salutarci per il traffico aereo, il volo Firenze-Amsterdam delle 12.10, al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 12.40. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!